signori bentornati carissimi nel canale dello zio maruto oggi con un nuovissimo video di ride shadow legend e saremo con un account speciale quello dell'infor nazionale che saluto l'infor buongiorno buonasera a lei caro l'infor buongiorno e buonasera zio e nipotini allora oggi andremo per l'evento del per due delle sagre a sbustare queste fantastiche 14 shards sagre dall'account dell'inforone nazionale l'infor caro prima di interagarci in questa pullata in questa sbustata sperando ovviamente di trovare eroi particolarmente forti andiamo a vedere nelle info in alto a sinistra quali sono le percentuali allora le percentuali sono 88 per cento di trovare un'epica quindi l'epica assicurata le sagre sono dei migliori shards che ci sono nel gioco e ben 12 per cento di trovare una leggendaria quindi percentuale raddoppiata dal classico 6 per cento quindi teoricamente con 10 barra 11 shards sagre dovremmo almeno trovare una leggendaria se non siamo sfortunati ma io confido nella chiappa di l'infor l'infor carissimo prima di andare ad aprirle le chiedo c'è qualche leggendario in particolare che ha puntato o anche qualche epica perché non è detto che a volte bisogna cercare le genere questi sono delle epiche che sono anche più forti delle leggendarie quindi vediamo se hai puntato qualcuno in particolare se ce lo vuoi far vedere magari ci concentriamo per trovare in realtà no puntavo più sulla scurata diciamo quindi tu dici basta che sia color giallo esatto ok perfetto allora lì per quando vuole possiamo partire marut e con me a portare le fortuna lo sfrego andiamo andiamo partiamo partiamo subito prima epica e si propone il lice lice che non conosco possiamo vedere al volo magari le revio giusto per vedere qualche vuoto sembrerebbe essere un normale personaggio d'arena attacco one enemy 30 per cento di mettere in decremento di accuracy penso che ci siano pochi personaggi che abbassano l'accurasi dei personaggi piaccia un 60 per cento incrementa difesa su questo questo campione per due turni e cura questo campione del 20 per cento dei suoi massimi hp è un personaggio quindi difesa che si autocura attacco one enemy decrease the target storm meter by 100 per cento places 30 per cento decrease speed debuff per due turni quindi toglie praticamente il turno all'avversario e gli diminuisce la velocità del 30 per cento per due turni quindi forse può essere buono nelle comp quelle che entrano in controllo del turni dell'avversario penso che possiamo andare avanti non è questo che vogliamo trovare l'informe andiamo al prossimo che è un'altra epica ed è ghies card de sigillet gli scari un altro errore di difesa che però questa le faccio forse a un 4,9 quindi sembrerebbe essere un'ottima epica a un pombo di bonita per tutto attacca un nemico al 50 per cento di piazzare decremento attacco per un turno danni basati sulla difesa attacca tutti i nemici un 50 per cento di piazzare provoc per un turno e inoltre piazza uno scudo buff su questo campione equivalente al 25 per cento dei massimi hp per due turni quindi praticamente lui taunta all'interno di un avversario e si mette anche uno scudo per cercare di prendere meno danni piazza un 60 per cento incremento da difesa e un 50 per cento incremento attacco sui alleati sembra figo questo quella la 3 è molto forte feels this champion turn meter by 15 per cento per dei retta che bayerni under provoc ok interessante quindi questo si rifiola anche il turn meter quando viene attaccato con avversari sotto l'effetto di provo che sembra un'ottima è un'ottima epica l'informe siamo andati sicuramente meglio ma andiamo alla terza si propone ex ex che mi esce sempre in tutte le video che faccio anche se questo è il mio account ex a siri propone andiamo avanti esatto non ci infischiamo non ci infischiamo noi vogliamo la leggendaria attenzione questo è un capello di qualità warden anche lui di difesa questa sembra una pullata di eroi difensivi un dark health attacca un nemico 40 per cento di piazzare debolezza per un turno damage inflicted disproportionate death quindi fa danno proporzionato dalla difesa attacca tutti i nemici al 50 per cento di piazzare decremento attacco per due turni e incrementa difesa su tutti gli alleati per due turni del 30 per cento e il danno inflitto è sempre proporzionato alla difesa e attacca tutti i nemici quindi si piazza un 30 per cento di riflette damage buffo non agli esforzi turni danno basato sia su attacco che su difesa sembra interessante sembra interessante questa quasi questa qua è bella però c'è a 6 di turni di cooldown attenzione altra epica per l'inforone questa volta arriva sir art image un eroe di attacco dei banner lords c'è un doppio attacco sulla uno il primo a colpo al 40 per cento di fare decrementa difesa il secondo colpo al 30 per cento di abbassare la speed per due turni rimuove tutti i debuffo a questo questo campione dopodiché attacca tutti i nemici questo è interessante per valutare bene queste skill bisognerebbe vedere il moltiplicatore del danno perché magari se un eroe di attacco che ha un moltiplicatore basso del danno non è così utile attacca un nemico ignorare il 30 per cento della difesa piazza anche un 50 per cento di incremento attacco 30 per cento di incrementa crit damage su questo campione per due turni se l'attacco uccide il nemico questi batti non possono essere rimossi ok sembra un po situazionale questo non è male non è male anche lui un altro bellissimo uno scudo spettacolare però noi siamo qui per bullare leggendarie questo non è generale anzi un altro banner lords un altro eroe di difesa nel fornare sta imbastendo un'armata difensiva con hot bond anche qui un altro re di difesa e andiamo avanti forse non se la sente neanche a leggere le abilità forse perché si sente calda la leggendaria attenzione arriva ciani ciani che un arcera degli ombranti del lasciato game faction attaccante attacca un nemico 40 per cento di piazzare sensibilità al poison per due turni 25 per cento piazza 50 per cento di incrementa cura si incrementa attacco su tutti no su questo campione per due turni dopodiché attacca un nemico solo play places a capi barne debuffs ok sembrerebbe essere un personaggio da boss attacca tutti i nemici 50 per cento incrementare la durata di tutti debuffo che sembrerebbe proprio un personaggio da da clan boss se mi fai vedere al valore reviews immagino che che abbia un valore alto al demon lord infatti infatti c'ha valori alti per ammazzare il singolo boss è comunque buono avere un ombrante che ti che ti fa danno i boss pure per le cripte di fazioni altra epica e altro ombrante l'infor va uno a uno gori attacca un nemico per due volte piazza un extra hit se il target è sotto a frizz e cura questo campione del 10 per cento dell'anno inflitto attacca tre volte a caso ogni colpa un 75 per cento di piazzare frizz per un turno quindi un eroe che frizza attacca un nemico ignorerà la difesa ignora l'incrementa difesa e lo scudo ignorerà anche il 50 per cento della difesa del bersaglio se sono sotto un effetto di frizz quindi prima li congela e poi li sfracchia praticamente piazza anche un contra attacco buffe un 50 per cento incrementa attacco su questo campione per due turni se l'attacco uccide il nemico sembra un po' situazionale e anche una passiva che dice conterà tacks with the cold comfort skill whenever an enemy places a stun sleep frizz provoke fear to fear petrification debuff una nalli ok quindi quando l'avversario interessante cori un attaccante per il team frizz attenzione altra evica york old ermite l'eremita l'eremita york un supporto che non è male gli org lo conosco non ce l'ho anch'io attacca un nemico a 30 per cento di piazzare hp barna per due turni piazza al 50 per cento incrementa attacco buff su tutti gli alleati per due turni e feels the tour meter del 20 per cento e poi c'è un'abilità che permette di rivivere animare due erano male con il 60 per cento di hp dopodichè riempie il contatore del 40 per cento e piazza perfect bail on them per due turni un ottimo rianimatore se non sbaglio anche uno dei pochi rianimatori che hanno buono ecco la leggendaria yoshi the drunk art yoshi è una figata pazzesca calorie forte lo dico subito è un support di grossa grossa qualità un personaggio molto tecnico che andremo a leggere è che me personalmente piace molto attacca un nemico al 30 per cento di piazzare lo stun quindi c'è uno stun sulla uno che non fa per niente schifo a un attac due volte a caso a caso è un 75 per cento di piazzare un decrementa accuracy debuff e non hp barna per due turni quindi buono anche al clan boss questa abilità la due e poi batte il toast piazza 50 per cento incrementa attacco 50 per cento incrementa accuracy in tutti i dati per due turni inoltre al 50 per cento di piazzare true fear debuff su tutti i nemici per un turno e al 75 per cento di chance invece di farlo on enemies under increase attack buffs quindi se sono se hanno increase attack buffs al 75 per cento invece che il 50 e dopodica la passiva che fills this champion tour meter by 4 per cento each time on enemies reserve buff ogni volta che gli avversari si buffano lui si riempie il contatore un supporto molto molto interessante questo è una leggendaria di utility molto buona e travezza anche molto figo ricorda un po' jiraya insomma se se conoscevi naruto apprezzerai ma attenzione perché noi vogliamo due leggendari back to back attenzione mostro mal creato l'infor trova un'epica al pari di una leggendaria signori questo questa epica degli hp dei nice revenant e nazi signori come potete anche vedere da queste votazioni l'inforo negaro lei ha trovato la seconda leggendaria quindi anzi forse questo è addirittura più forte di di osci attacca un nemico per due volte ogni corpo a 15 per cento di piazzare stun al 50 per cento di piazzare decrementa difesa debuff per un turno se lo stun è piazzato danni basati su hp quindi ha sia uno stun più decrementa difesa sulla 1 attaccando due volte attacca a tutti i nemici al 50 per cento di piazzare stun per un turno a tutti i nemici piazza uno scudo su tutti gli dati per tre turni equivalente al 25 per cento del danno inflitto questa skin è il nas più totale e poi non solo play se sta 50 per cento ali protection baffi su tutti gli dati per tre turni eccetto questo campione e cura questo campione del 50 per cento dei loro del suo massimo hp piazza anche 15 per cento continuosi al baffo di sempre per tre turni e potenziali a cui domini per stabilità calcoli ogni quattro turni fortissima ma non è finita qua perché abbiamo anche la passiva no la passiva abbiamo letto il corone ecco non abbiamo aperto la passiva che è rottissima piazza fiare debuff e gli attaccanti per un turno in qualvolta un alleato è attaccato sotto al baffi di alle protection quindi si attaccano un togliato che al suo ali protection lui piazza lì protection si beccano il fiare molto molto bilanciato signori l'infor qui ha sculato alla grande andiamo avanti e troviamo jingle hunter molto meno osculata però insomma abbiamo ancora due certi sacre siamo alla prossima ultimi due colpi di genio da parte di l'infor che va a trovare cream skin sicuramente non lo green tribes più forte che potevi trovare avremmo avuto delle epiche più forti l'inforo regalo si concentri per l'ultima shard sagra marut e con lei vediamo se riusciamo a fare una sculata che mica è blood feeder che io personalmente non conosco eroi di attacco degli orchi tacca un nemico a un 20 per cento extra di infliggere un critica let attacca un nemico a un 20 per cento di infliggere un critica lette piazza un 60 per cento decrys death per due turni attacca un nemico insomma attaccante fa tutti attacchi singoli non è che ci fa impazzire anche se questo decrementa la speed è il turmida degli avversari aumenta l'alli creep rate non mi sembra niente di che ma l'informe caro lei può essere contento perché joshi è un signore ero di supporto il mostro mal creato è un top tier assoluto del gioco forte praticamente in tutti gli stati del gioco in arena e god quindi l'infor caro può essere contento di questa pullata noi ci rivedremo sicuramente caro l'infor per la pullata di quelle voi di shard che sembrano molto molto succulente su cose e magari perché non ci regalerai qualche leggendaria del voto particolarmente forte lascio la parola all'infor per questo finale l'infor caro lei è contento di questa sbustata è tutto sommato si speravamo almeno un altro leggendario però però è andata bene ma che trovato due leggendari a tutti gli effetti va bene signori io spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciato un like l'iscrizione alla condivisione attivate sempre la campanella prima ragionati con le news e novità del canale non ci becchiamo tutte le sere in live non mancare signori e becchiamo